Ancora senza esito a vittoria le ricerche di Michele Occhipinti, l'anziano di 85 anni di cui si sono perse le tracce da sabato sera, ad occuparsi del caso anche alla trasmissione televisiva che l'ha visto. Omicidio loro e su un pool di esperti invisili al carcere di Agrigento, dove è detenuta la madre Veronica Panereppo, gli esperti devono valutare la capacità genitoriale della donna. Pioggia di commenti e reazioni in provincia all'indomani della presentazione dell'atto aziendale illustrato dei versi dell'ASP7, in campo l'onorevole di Pasquale, Forza Italia e la CGR di Ragusa. Consegnata al sindaco di Ragusa Piccitto le quasi 500 firme per bloccare l'installazione delle antenne di telefonia mobili incontate a Cerasella, disponibile al dialogo il primo cittadino. Per una maggiore efficacia nella lotta al randagismo, l'ASP7 e l'Ordine dei Veterinari chiedono ai sindaci Blade maggiore collaborazione e sinergia in materia di sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonia. Benvenuto a un appuntamento con la nostra informazione. Allora ancora senza esito a vittoria le ricerche dell'anziano pensionato di 85 anni Michalocchi Pinti, di cui si sono perse le tracce da sabato, le cui ricerche sono partite domenica dopo che il figlio non vedendolo rientrare ha lanciato l'allarme e a occuparsi del caso anche alla nota trasmissione di Enrai 3, chi l'ha visto? Proseguono senza sosta le ricerche di Michele Occhipinti, vittorese di 85 anni, di cui si sono perse le tracce da sabato sera e le cui ricerche sono partite domenica dopo che il figlio, non vedendolo a casa, ha lanciato l'allarme. Carabinieri, polizia, protezione civile, guardia di finanza e vigili del fuoco lo stanno cercando ovunque. Dapprima si sono concentrati nelle aree limitrofe e all'abitazione, incontrata a Serra San Bartolo, poi hanno allargato ai comuni e alle frazioni vicine. Secondo i familiari l'uomo si sarebbe allontanato volontariamente e non è escluso che possa aver usufruito di un passaggio magari dato da un automobilista per raggiungere altre città della provincia. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno controllato pozzi, svuotato vasche di irrigazione e sguinzaiato sul territorio i cani delle unità cinofile, ma senza alcun risultato. L'unica cosa certa è che l'uomo si è allontanato a piedi lasciando a casa il telefonino. L'ultimo a vederlo, appena al di fuori della sua proprietà, è stato un pastore intorno alle ore 18 di sabato e ha raccontato che l'85enne indossava jeans blu e camicia righe bianche e azzurre. Di Michele Occhipinti si è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto e adesso i familiari e soprattutto la moglie e i tre figli lanciano un appello affinché chiunque lo abbia visto si rivolga alle forze dell'ordine o direttamente a loro. L'anziano non soffre di particolari disturbi se non di qualche problema di pressione e circolazione e non avrebbe avuto alcuna discussione in famiglia tale da giustificare un allontanamento. Niente funerali per il momento a vittore per il giovane Dario Cognata, morto in seguito da un incente stradale scorso 7 settembre sulla vittore Scoglitti. A distanza infatti di otto giorni dal decesso si attende da un momento all'altro l'autorizzazione per l'autopsia della procura della Repubblica di Catania. Intanto in queste ore si resiste una novità importante. I medici che avevano preso in cura il giovane e un anestesista di Vittoria hanno ricevuto gli avvisi di garanzia dalla procura. Un atto dovuto, dicono, dopo la denuncia presentata dalla famiglia del giovane tramite l'avvocato Ninni Schembri che chiede di conoscere eventuali responsabilità sul decesso del giovane. Appresentando questa circostanza il medico legale Giuseppe Algieri, nominato consulente da parte della famiglia, ha deciso di rinunciare all'incarico. Omicidio Loris, un pool di esperti si è recato ieri al carcere di Agrigento dove è detenuta la madre, Veronica Panarello, per valutarne la capacità genitoriale. All'incontro presenti anche due avvocati e consulenti della Panarello e del padre del bambino. In attesa che la procura di Ragusa chiuda le indagini sull'omicidio del piccolo Loris Stival, prosegue la battaglia giudiziaria di accusa e difesa. Ieri un pool di esperti si è recato presso il carcere di Agrigento dove è rinchiusa la madre del bambino ucciso lo scorso 29 novembre a Santa Croce Camerina per verificarne in sostanza la capacità genitoriale. In pratica, dopo questo incontro, quando partecipati due avvocati e consulenti per la Panarello e Papa Davide, il Tribunale dovrà stabilire se la donna accusata dell'omicidio del figlio abbia o meno questa capacità, in modo così da poter ottenere l'affido del figlio minore attualmente affidato al padre e alla suocera. E su questo punto se ne discuterà ampiamente nell'aula giudiziaria sabato 3 ottobre. Da questa perizia quindi dipenderà la possibilità per Veronica Panarello di rivedere il secondo genito che ha lasciato lo scorso 8 dicembre quando ci venne prelevata la sua abitazione di via Garibaldi a Santa Croce per essere condotta in procura Ragusa e lì rimasta sotto torchio degli inquirenti per diverse ore. Intorno mezzanotte poi la clamorosa notizia della notifica del fermo con l'accusa di omicidio. Sono passati quasi dieci mesi dalla visita del pool degli esperti nel corso dei quali la donna è passata dal carcere di Catania a quello di Agrigento. Si è sempre professata innocente continuando ad affermare che l'assassino del figlio è ancora in libertà. Ancora crona che il nucleo antisofisticazione di Ragusa ha scoperto in queste ore e sequestrato un intero allevamento totalmente abusivo sul posto 18 bovini a un cavallo. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa hanno scoperto e sottoposto a sequestro un intero allevamento totalmente abusivo. I carabinieri erano alla ricerca di capi non registrati nella zona tra San Giacomo e Giarratana. Durante i controlli nell'area di Ragusa sono arrivati ad un allevamento della zona e nella stalla hanno trovato ben 18 bovini ed un cavallo tutti privi di marchia auricolare e quindi di origine sconosciuta. Sul posto anche i veterinari dell'ASP7 di Ragusa. La proprietaria della struttura ha riferito di aver affittato la stalla ad un allevatore, un cinquantenne modicano il quale sul momento non ha dato valide indicazioni sull'origine dei capi. Tutti e 19 gli animali sono stati sottoposti a sequestro e il modicano ora avrà due giorni di tempo per dimostrare l'origine lecita degli animali. In tal caso i veterinari potranno tramite l'analisi del DNA chiarire quale sia la madre dei bovini e dell'equino ed il modicano dovrà pagare solo la sanzione amministrativa per l'omessa applicazione dei marchi auricolari. In caso contrario tutta la mandra dovrà essere abbattuta e distrutta. A Vittorio il parco di Baden-Paule torna a far parlare di sé questa volta i cittadini lamentano la presenza di siringhe usate da tossicodipendenti in un'area attrezzata con un parco giochi. Una situazione invivibile per una zona della città che non ha pace. Così i residenti di Via Milano a Vittorio descrivono le condizioni della zona all'altezza del parco Baden-Paule. A segnalare il problema alcuni cittadini che hanno appunto chiamato la nostra redazione per raccontare come l'area ricca di giochi per bambini è però anche meta di molti giovani tossicodipendenti come dimostrano le numerose siringhe presenti nell'area. Spesso inoltre è utilizzata da bande di giovinastri che schiamazzone e rompono tutto intimorendo anche i residenti che osano ribellarsi. A tutto ciò ultimamente si è aggiunta la presenza di una carcassa di cane in putrefazione il cui lezzo ha invaso l'area. Più volte i residenti hanno chiesto maggiore attenzione ma non appena le forze dell'ordine girano l'angolo bastano pochi giorni, se non ore, perché tutto torni come prima. È una situazione vergognosa ma non solo per i bambini ma anche per noi che veniamo qua e vorremmo stare un po' liberi con i cani però vorrei parlare anche dell'inciviltà delle persone perché quando veniamo qua dobbiamo pulire soprattutto noi che abbiamo cani e praticamente il cane l'ho visto sepolto là ma già forse era morto perché se era vivo lo avrei preso ed è stato disseppellito e ho trovato dei guanti e i bambini qua ieri venivano a prenderlo a calce praticamente. Ho telefonato alla polizia forse lunedì lo vengono a togliere, la carcassa vengono a togliere. Per cui stiamo aspettando è comunque in degrado questa situazione. Seringhe profilattici, c'è di tutto anche uomini che vengono a fare qua i bisognini ci sono carte igieniche c'è di tutto e di più praticamente. Io in campagna questo schifo non lo trovo perché la gente in campagna si pulisce meglio di essere a Vittorio e qua siamo in un degrado assoluto. Signor sindaco, le rivolgo a lei questa situazione di questo quartiere perché poi è un ricovero pure per quelli che fanno tante altre cose. Guardi, e lei stessa apprezzi quello che stiamo facendo vedere. Ultima pagina, pioggia di commenti e reazioni dopo la presentazione dell'atto aziendale da parte ai vertici dell'ASP nelle ultime ore si sono fatti sentire l'onorevole Nello di Pasquale il vicepresidente di Forza Italia Giovanni Occhipinti e anche la CGL di Ragusa. Come un fiume in piena non si placa in provincia l'onda di commenti e reazioni per lo più di segno negativo relativa alla recente presentazione da parte dei vertici dell'ASP del cosiddetto atto aziendale sanitario. In queste ore si fanno sentire in parecchio ognuno contese riflessioni diverse. Per l'onorevole Nello di Pasquale soddisfatti in ogni caso per quanto illustrato dal manager Maurizio Rigò occorre che il reparto oncologico resti nel capologo. Si tratta, dice di Pasquale, di un reparto che in questi anni ha acquisito servizi e strumenti diagnostici e terapeutici che ne fanno punto di riferimento per l'intero bacino della Sicilia sud-orientale e pertanto costituisce per il parlamentare regionale un patrimonio comune all'intero territorio. Un no secco invece a quanto esposto dal manager dell'ASP arriva dal vicepresidente e commissario di Forza Italia in provincia Giovanni Occhipinti secondo cui l'atta aziendale dell'ASP deve rispondere alle esigenze della collettività che chiede una sanità di qualità. Sbagliato fare una guerra di campanile e logica di spartizione afferma Occhipinti ma bisogna invece pensare solo al bene del paziente. In campo anche la C.G. Ragusa che col suo segretario generale Giovanni Aula afferma come l'atta aziendale dell'ASP va modificato prima della sua adozione diversamente dice Aula chiederemo l'audizione nella commissione sanità oltre alla richiesta di un incontro con l'assessore regionale Gucciardi. Un'altra tematica tutta siciliana che rimane ancora nell'incertezza è la riforma delle province o meglio dell'ex province che verrà modificata. Sarà infatti l'assemblea regionale a decidere in compense e meccanismi di voto intanto il governatore Crocetta si trova in questo momento a Roma per cercare sull'argomento di evitare quello che ha definito uno scontro istituzionale. Sulle ex province c'è una legge da cambiare per cui si tornerà in aula all'Ars per votare a fine ottobre al massimo ai primi di novembre e correggere gli errori che hanno portato il governo nazionale ad impugnare la legge con cui la regione ha istituito i salibri consorzi alle tre città metropolitane. Il presidente Crocetta si è infatti portato a Roma per provare ad evitare uno scontro alla consulta ma anche per cercare invece la via del dialogo. Vorrei evitare uno scontro istituzionale avrebbe convidato ai suoi collaboratori ma intanto ha dovuto ammettere che verrà modificato il sistema di voto per l'elezione dei vertici introducendo come chiede il governo il voto ponderato. E la legge regionale prevede ad oggi che sindaco e presidente di consorzio vengano elette dai consiglieri dei comuni del territorio e ogni voto di questi elettori ha un valore uguale. Il governo vuole invece che i voti dei consiglieri dei grossi centri valgano più di quelli degli elettori dei piccoli paesi. Sembra semplice ma infatti non è così perché in base al peso che avrà individuato potranno cambiare gli equilibri elettorali. Facile prevedere quindi un duro sconto a Lars quando tra qualche mese ci sarà il voto. Non meno agevolo la questione delle città metropolitane dove anche in questo caso si va verso un braccio di ferro in merito a chi dovrà guidarle. Il museo di Camarina capofila di un progetto di ricerca internazionale con Malta sulle antiche torri rotonde. L'equipe di ricerca sarà guidato dall'archeologo e direttore dello stesso museo Giovanni Di Stefano e da Anthony Pace soprintendente di Malta. Questa è la terza campagna di ricerca a Malta ha dichiarato lo stesso Di Stefano e la novità è che l'equipe di studio sarà formata da un team di ricercatori italo-maltesi e che il museo di Camarina avrà il coordinamento scientifico e organizzativo della missione. Apprese il via stamani la 41esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea in programma Ragusa fino a domenica prossima. In vetrina i settori della zootecnia meccanizzazione agricola agroalimentare agriturismo e florovivaismo ma anche ci saranno saloni di vino e olio siciliano. Inaugurata stamattina la 41esima edizione della FAM la Fiera Agroalimentare Mediterranea in programma fino a domenica 27 al Foro Boario di Ragusa sulla Ragusa Chiaramonte. La struttura della manifestazione conferma la presenza dei tradizionali settori della zootecnia, della meccanizzazione agricola, dell'agroalimentare e dei settori avviati negli ultimi anni come l'agriturismo, il florovivaismo, il salone del vino e dell'olio siciliano. oltre agli appuntamenti storici della Fiera come la gara di valutazione morfologica dei bovini per gli studenti degli istituti agrari d'Italia ed il concorso Qualità ed esposizione dedicato agli espositori del settore agroalimentare verranno riproposte iniziative che riscuotono un grande interesse da parte dei visitatori come la didattica del gusto, il salone delle degustazioni e la mostra dei formaggi tipici siciliani. Un altro appuntamento di grande interesse sarà costituito come ogni anno dalle manifestazioni equestri con la collaborazione delle associazioni ragusane. In scaletta sabato pomeriggio anche un workshop ed un convegno. Il primo sui fondamenti del web marketing e l'altro sul futuro dei territori fra nuove camere di commercio ed aria vasta. Si terrà lunedì 28 settembre dunque lunedì prossimo ore 10.30 sarà giunta Palazzo della Provincia alla conferenza di presentazione del programma delle iniziative che si terranno dall'1 al 4 ottobre all'interno del cluster biomediterraneo coordinato dal tavolo provinciale di Expo e promossa dai consorsi di tutela della provincia e dai comuni Iblei che hanno aderito. Un programma che intende mettere in evidenza recito una nota della provincia la forza agroalimentare di una produzione di eccellenza data dal vino Cerasolo di Vittoria dall'olio DOP Monti Iblei dall'ortofrutta sempre di Vittoria col suo pomodoro ciliegina dal formaggio dell'altipiano Iblei o come la ragusano DOP. La vicenda dell'installazione delle antenne di telefoni in Contrada a Cacera Sella a Ragusa l'altrueri incontro al comune dove il comitato Intercontrade ha consegnato al sindaco Piccitto quasi 500 firme per ribadire il no all'installazione. Il sindaco di Ragusa Federico Piccitto e il suo vice Massimo Iannucci hanno ricevuto al palazzo di città rappresentate del comitato Intercontrade. Durante l'incontro sono state consegnate al primo cittadino le quasi 500 firme già raccolte per ribadire attraverso la petizione il no all'installazione di un'antenna di telefoni a mobili incontrata a Cera Sella. Il comitato ha inoltre sottolineato analoghe preoccupazioni relativa all'installazione già avvenuta di un'altra antenna di telefoni a mobili incontrata a Gatto Corvino. Il confronto fra gli amministratori comunali e il rappresentante delle contrate in questione ha rappresentato l'occasione per rassicurare gli stessi componenti del comitato ribadire anche la piena disponibilità da parte dell'amministrazione comunale ad ascoltare e accogliere le richieste espresse dai residenti della zona. Avevamo già dimostrata dichiarato lo stesso Piccitto un'immediata attenzione verso le problematiche che ci sono state esposte e lo dimostra il fatto del provvedimento emesso ad agosto di sospensione temporanea dell'antenna di contrada a Cera Sella. In questo caso Pelarto ribadisce Piccitto abbiamo già avviato gli atti necessari all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della pratica. A Gatto Corvino invece conclude Piccitto oltre al riesame della pratica verranno avviate azioni di vigilanza e controllo dell'antenna in questione. L'assessorato regionale al turismo Sport e Spettacolo ha destinato un intervento finanziario di 20.500 euro per la manifestazione di scoglitti Open Village una destinazione di somme ha commentato il sindaco Nicosia che anche il riconoscimento che l'iniziativa costituisce oggi una delle manifestazioni turistiche più qualificate in ambito regionale. Adesso gli uffici comunali competenti rimarca Nicosia predisporranno l'iter amministrativo che ci consenterà di accedere al finanziamento che ci è stato destinato. Il Dipartimento Prevenzione Veterinario dell'ASP 7 ribadisce che viene garantito l'accesso alla sterilizzazione di cani e gatti. Si tratta di un'azienda di un'importanza strategica nella lotta al randagismo diversa dicono sia i veterinari che l'ASP da quella che viene praticata negli ambulatori comunali. A seguito di numerose segnalazioni di veterinari che lamentano l'esecuzione presso gli ambulatori comunali di interventi di sterilizzazione su cani gatti che non appartengono alla fattispecie di cane randaggio e gatto di colonia l'ASP di Ragusa e l'Ordine dei Medici Veterinari sono intervenuti con una lettera inviata ai sindaci Blei per richiamare lo spirito di collaborazione e sinergia che caratterizza i diversi enti. Scopo della nota chiarire e precisare quanto contenuto nel legge regionale del 2000 e nei successivi decreti attuativi che prevedono le procedure da adottare per la cattura l'identificazione e la sterilizzazione di cani randaggi e gatti di colonia. Si tratta peraltro rilevano dall'ASP e dall'Ordine dei Veterinari di un'azione randagismo e in effetti gli interventi di sterilizzazione effettuati negli ambulatori comunali quando non sono rivolte a randaggi arrecono un danno per gli stessi veterinari Blei e liberi professionisti e titolari di ambulatori oltre ad un utilizzo improprio di risorse pubbliche. La lotta al randagismo prosegue quindi la nota prevede pertanto l'azione sinergica di enti, istituzioni e associazioni individuati da un apposito decreto assessoriale e ove questa sinergia viene a meno gli sforzi compiuti da un solo ente sono vanificati e le risorse impiegate non sortiscono gli effetti desiderati. Bilanci di stagione estiva il Comune di Ragusa presenta il report in questo caso la stagione estiva di Marina di Ragusa relativa al servizio di salvataggio e soccorso in mare fornito dalla protezione civile. Domenica scorsa Marina di Ragusa giornata in cui si è svolto l'ultimo appuntamento inserito nel programma della DL estate Mazzarelli si è concluso anche il servizio di salvataggio e soccorso in mare garantito dal presidio comunale di protezione civile ubicata all'interno del porto turistico 9 operatori comunque continueranno a prestare la loro opera anche nella stagione invernale e con l'ausilio dei mezzi nautici a disposizione garantiranno la salvaguardia della vita umana in mare oltre a possibili interventi in caso di avverse condizioni meteorologiche potrebbero interessare la fascia costiera e dal 1 luglio a domenica scorsa 20 settembre sono stati numerosi di interventi effettuati dagli uomini del presidio comunale di protezione civile in particolare tra tensalve 13 persone mentre è stata prestata assistenza a 43 tra imbarcazioni e surfistine difficoltà e ancora 9 imbarcazioni in avaria sono state soccorse e trainate al porto 14 bambini che si erano dispersi negli arenili sono stati ritrovati mentre ci sono state numerose chiamate al numero verde da parte di cittadini in difficoltà infine sono state effettuate una ventina di interventi di tutela ambientale con la rimozione di carcassi animali oltre ai controlli di sospetto inquinamento adesso il repilogo dei fatti nel primo piano ancora senza esito a vittoria le ricerche di Michele Occhipinti l'anziano di 85 anni di cui si sono perse le tracce da sabato sera ad occuparsi del caso anche la trasmissione televisiva che l'ha visto unica cosa certa è che l'uomo si è allontanato a piedi lasciando a casa il cellulare ultimo a vederlo un pastore nel tardo pomeriggio di sabato i familiari tornano a lanciare l'ennesimo appello a chi l'abbia visto o incontrato omicidio loro sono pur di esperti in visire al carcere di Agrigento dove è detenuta la madre Veronica Panarello gli esperti devono valutare la capacità genitoriale della donna il tribunale dove poi stabilire se la donna accusata dell'omicidio del figlio abbia o meno questa capacità in modo da ottenere l'affido del secondo genito si tratta del figlio minore che la donna non vede da quando a dicembre scorso venne arrestata Pioggia di commenti e reazioni in provincia all'indomani della presentazione dell'atto aziendale illustrato dei versi dell'ASP 7 in campo l'onorevole Di Pasquale Forza Italia e la CGR di Ragusa per Di Pasquale l'atto potrebbe anche funzionare ma occorre che oncologia resti nel capoluogo molti critici invece il vicepresidente di Forza Italia Giovanni Acchipinti e il segretario generale della CGR di Ragusa Giovanni Avola Consegnata al sindaco di Ragusa Piccitto le quasi 500 firme per bloccare l'installazione delle antenne di telefonia mobili in contata a Cerasella disponibile al dialogo il primo cittadino il comitato promotore della petizione ha anche evidenziato analogo e preoccupazioni relativa all'alta installazione di contata a Gatto Corvino Piccitto ha intanto già avviato gli atti necessari all'annullamento in autotutela dell'antenna di telefonia Per una maggiore efficacia nella lotta al randagismo l'ASP 7 e l'ordine dei veterinari chiedono ai sindaci Iblei maggiore collaborazione e sinergia in materia di sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonia gli interventi di sterilizzazione effettuati negli ambulatori comunali affermano ASP veterinari quando non sono rivolte al randagio regono un danno per gli stessi veterinari liberi professionisti oltre ad un utilizzo improprio di risorse pubbliche è tutto grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni grazie per l'attenzione